Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su YouTube, mi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e andiamo a vedere il livello 16, Mercedes-Benz Vision 1 11, termina la gara, 2.360 consecutivi, tempo in volo, 3 corse perfette e vinci la gara, tempo con nitro 25 secondi e 4 salti, anche qui sempre con l'auto a 2 stelle e noi la Sagaris ce l'abbiamo maxata, sia perché è l'auto del pass di questa stagione, della precedente, sia perché noi l'abbiamo portata al suo massimo, la stagione precedente, batti il tempo di 1.33, derapa per 350 metri, quindi dovrebbero essere facili come obiettivi, andiamoli subito a vedere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Comunque questa macchina mi piace, come guidabilità, anche un buon nitro lungo. 1.27.2, vediamo, non mi ricordo quant'era il tempo da battere, ma era con 2 stelle, quindi presumo di avercela fatta. E infatti l'abbiamo presa, era 1.33 larghissimi, tempo con nitro 25 secondi e 4 salti, si prende, corse perfette, vinci la gara, si prende, quindi si riescono a prendere tutti anche in modo abbastanza facile. Io direi di chiudere qua questo video, domani è il penultimo livello, qui andiamo con la Mercedes-Benz Vision 111 in base alle nostre stelle, quindi io ce l'ho a 2 stelle, vediamo se è il caso di portarla a 3. Potrei portarla a 3 per prendere un progetto e vediamo quanti me ne mancano. Allora, per la terza stella servono la bellezza di 40 progetti, quindi me ne mancherebbero 13 e quindi dovrei andare a sbustare, vediamo un attimo se posso recuperare qualcosa dai vecchi eventi. Quindi la vallalla posso solo se ne prenderei almeno uno, se riuscissi a portarla a 4 stelle, ma devo uscire nel negozio, altrimenti non posso e poi comunque no, mancano 35 progetti, 25 se sfrutto forse tutte e 9, quindi ne mancherebbero 26, quindi diciamo di no. E benché abbiamo fatto quasi tutti gli step, anche qui purtroppo manca l'auto dalla terza stella, non ci serve, ci sarebbe per 120 gettoni, poi un progetto alla quarta stella e purtroppo il grosso sono nei progetti successivi. E poi la bacalar che abbiamo, abbiamo diciamo, abbiamo i pacchetti nel negozio, però anche qui mancano due stelle, quindi non vado a portarla oltre, perché mancano troppi progetti. Oddio, la quarta stella, non ne mancherebbero poi tanti, una ventina, sì. Per andare a prendere un progetto e 60 gettoni, no, non penso valga la pena, quindi diciamo rimaniamo così, poi andiamo a fare l'ultimo step del domani, dopo domani, l'ultimo step dove andremo a piazzarci in base al nostro tempo, nella classifica generale, di chi avrà sbloccato l'auto, quindi saranno pochi giocatori. È tutto per questo video ragazzi, ci vediamo, mi raccomando come sempre un bel like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, ciao a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. Grazie.